Se guardate una confezione di hamburger suggerati al supermercato potreste scoprire in qualche caso come questo che la carne arriva a malapena a superare il 50%, metà dei burger. In altri casi invece arriviamo al 95%, al 93%, quindi di carne ce n'è parecchia. Ma quale carne? Che tipo di carne viene messa nelle nostre polpette? Io sono Riccardo Quintini, sono il direttore del Salvagente e vi racconto innanzitutto il test di copertina di questo mese del nostro giornale perché siamo andati proprio a fare le pulci agli hamburger. Ne abbiamo portati in tre laboratori diversi, ben 11, i più venduti sul mercato, per cercare di capire davvero che tipo di ingredienti prevedono, che tipo di carne chiaramente, quindi anche la qualità della carne. Ebbene, abbiamo scoperto che oltre a essercene in qualche caso troppo poca, ce n'è anche di scarsa qualità. Ossia carne che ha nervi, nervetti, insomma materia prima non certo, come quella che sceglieremo dal macellaio. Ma non ci è bastato, siamo andati a vedere antibiotici, nitrati, insomma una classifica completa, un servizio in cui ci occupiamo ovviamente anche del benessere animale, perché sappiamo che è un tema dominante, un tema che affascina molti consumatori, anche quelli che mangiano carne vorrebbero che gli animali fossero trattati un po' meglio. Ne esce una classifica, una classifica che come al solito con nomi e cognomi trovate sul giornale in edicola, una classifica con non poche sorprese per molti di voi, probabilmente, sicuramente alcune sorprese le abbiamo dovute registrare anche noi. In un caso, per esempio, lo stato igienico di uno dei prodotti che abbiamo testato era francamente insoddisfacente, l'abbiamo fatto presente all'azienda che sta conducendo delle analisi di controllo, perché effettivamente la situazione era ai limiti di quanto probabilmente ci saremmo aspettati, quindi un po' preoccupante. Per un numero che è un numero evidentemente molto caldo, non potevamo non occuparci del fronte bollette. Sappiamo già, e molti di voi stanno sperimentando la difficoltà nel pagare le bollette del gas e della luce, quello che abbiamo cercato di fare è non offrirvi dei consigli minimi e se volete anche banali, come cuocere la pasta con l'acqua spenta, piuttosto che riscaldare qualcosa nella pastoviglia per risparmiare energia. Beh, non ci è bastato, siamo andati a vedere se invece è possibile risparmiare qualche migliaio di euro muovendosi ora. Ora perché? Perché a ottobre arriveranno altre batoste per noi consumatori, per noi cittadini, aumenterà certamente ancora il costo della luce del gas e allora ci siamo chiesti se non sia il caso di cambiare ora ed effettivamente abbiamo trovato offerte che permettono a una famiglia media di risparmiare anche più di un migliaio di euro. Quindi ovviamente serve accortezza, serve conoscere bene le proprie esigenze, serve certamente leggere il servizio di Lorenzo Misuraca sul salvagente perché fa luce davvero su un risparmio che è possibile al di là di qualunque aiuto del governo. Infine tre pillole sui tanti servizi che potrete trovare nel numero del salvagente. La prima riguarda il cambio dei bambini. Chi ha un bambino, chi è un neonato, sa che la pasta per il cambio è fondamentale per impedire che ci siano irritazioni ma non tutte le paste sono uguali. Alcune contengono degli ingredienti sgraditi, noi ne abbiamo confrontate otto, vi offriamo il cosa contengono davvero, quali sono i pericoli di ognuna e quali sono ovviamente le migliori in questo campo. Poi Amazzonia può sembrare un tema molto lontano da noi e invece molto vicino perché i cambiamenti climatici come sappiamo tutti ormai ci riguardano, l'oro rubato dall'Amazzonia. Ebbene abbiamo seguito grazie a un'inchiesta giornalistica il tragitto, il percorso dell'oro che viene illegalmente sottratto, estratto dalle miniere nel cuore del polmone verde del pianeta con effetti devastanti di deforestazione ovviamente e anche di genocidio delle popolazioni che lì vivono. Ebbene queste tracce portano a Google, Apple e Amazon perché lo leggerete nel servizio del giornale. Ultima, ultima anticipazione di un numero particolarmente ricco riguarda telemarketing. Sappiamo ormai che c'è un nuovo registro in cui iscriversi per dire basta alle telefonate che ci scocciano, che ci in qualche modo rovinano la giornata. Come funziona l'iscrizione a questo servizio e poi davvero in grado di farci smettere di ricevere quelle telefonate che continuamente ci interrompono? Bene, abbiamo scoperto che ci sono più di un'eccezione, quindi qualcuno potrà continuare a chiamarci e ve lo raccontiamo nel numero di settembre del Salvagente.